questa è la poltrona di cui si parla e l'acquisto che ho fatto con voi con con i contatti di con francesco e devo dire che sono pienamente soddisfatto e per il colore che come vedete si incastona benissimo quello che io ho a casa mia e per la realizzazione della pelle compreso quel piccolo ritocco bordino blu che ho chiesto io a francesco e che ha realizzato alla perfezione come vedete perché richiama esattamente il colore del divano e quindi esclusivamente devo dire un bel lavoro un ottimo acquisto e quindi auguri a voi e buon lavoro